Buongiorno al senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Benvenuto a Delta Radio. Grazie, grazie dell'invito, grazie direttore, grazie a tutti. Senatore, Commissione Agricoltura, viene a pensare ai campi, ma anche alla pesca. Questa è la grande estate. Tutte le stati hanno il loro tormentone dell'estate, granchio blu. Diciamo che manca solo un jingle ormai per il granchio blu, perché ormai se ne parla in tutte le salse. E' buono il fatto che se ne parli, anche perché dopo lo stanziamento importante fatto dal governo dopo tre settimane dalla segnalazione del problema. Questa è una cosa che in politica si vede poche volte. Cioè la politica così reattiva rispetto ai problemi capita veramente poche volte. Tra l'altro noi il 6 e il 7 l'abbiamo anche ospitato anche in provincia di Rovigo. Il 6 e il 7 poi era il giorno del Consiglio dei Ministri e è venuto proprio a raccontarci questa prima misura che avrebbe fatto il giorno dopo. E quindi a questo però poi sono continuate le interlocuzioni, ma anche le tante attività per fare di quella che è diventata un problema una risorsa. Lei senatore è andato anche a Scardovari, ha visto come lo pescano, quanto ne pescano. Il problema, io c'ero ieri a Pila, è il problema serio. No, il problema è serissimo. Cioè se non si capisce la serietà, l'importanza di questo problema, con la stessa velocità con cui l'ha capito il Ministero, credo che non lo risolveremo. Bisogna pescarlo, bisogna eradicare totalmente la specie prima che qualcuno si sogni addirittura di dire che va protetta. Un po' come è accaduto con i cinghiali. Noi non possiamo pensare che prima debbano distruggere tutto prima di rendersi conto dell'importanza del problema. Finalmente il Ministro subito siamo intervenuti e quindi è evidente che adesso deve anche tutti quelli che sono i famosi stakeholders devono fare la loro. Cioè pescare, pescare, pescare questo e poi smaltire, secondo anche le direttive che vengono date, ma anche e soprattutto trovare quei canali di commercializzazione che consentono anche di ottenere un reddito, cioè di volgere una problematica e una risorsa. Però è evidente che quest'anno le perdite che ci saranno nel mercato e nell'acquacoltura vanno compensate. Su questo io sono fiduziosissimo che il governo interverrà. Il ragionamento ha chiesto la dichiarazione dello Stato di calamità? Sì, ma guardi, al netto degli Stati che si possono richiedere, l'importante è sempre avere risorse e avere voglia di metterle. Insomma abbiamo già dimostrato che subito, dopo tre mesi, tre milioni erano disponibili proprio per lo smaltimento. Io credo che con la stessa capabilità, con la stessa determinazione con cui il Ministro ha dimostrato questa prima tranche, credo che poi venga incontro anche alle esigenze dei pescatori, che ripeto, quest'anno si troveranno con un prodotto pari allo zero, perché l'acquacoltura è pesantemente colpita da tutto ciò. E quindi credo che contestualmente a queste misure che puntano a valorizzazione del prodotto granchio, ci siano anche quelle che puntano a compensare quelle che sono le perdite dell'acquacoltura, quindi vongole e probabilmente cozze anche per la prossima stagione. Quindi andrà trovato un sistema di eradicazione per liberarcene il più velocemente possibile, mettendo assieme lo smaltimento. Ieri si parlava, per esempio, che Coldiretti parla di usare i biodigestori per farne anche biometano dal granchio blu e una parte finire sulla tavola. La straordinaria capacità dei Veneti di trovare soluzioni a dei problemi si è vista in questi 15 giorni. C'è chi lo porta nel piatto, chi pensa già come esportarlo, chi manda già dei contagi negli Stati Uniti, chi pensa come smaltirlo. È un problema che va avrontato to cool. E cioè credo che veramente si siano accese tante lampadine che consentiranno di affrontare anche questa crisi. Dopodiché io ho fatto già un ragionamento col Ministro, glielo ho detto ieri, l'ho detto alla mia commissione, dobbiamo fare un'indagine conoscitiva per capire se abbiamo gli strumenti per affrontare tutti i cambiamenti climatici e i loro effetti, soprattutto su fauna e su flora. Credo che questo noi abbiamo il dovere di fare una fotografia, di capire come l'uomo dovrà adattarsi a di nuovi strumenti e soprattutto quali saranno gli strumenti che dovremo mettere in campo. Credo che sarà un lavoro che ci impegnerà tutto l'inverno. Lei che è anche sindaco su un comune del Bellunese. Dove non c'è il Granchio Blu. C'era stato il gambero rosso? Sì, sì, sì. È una storia che ricorda molto quella del Granchio Blu. C'è stato quello, assolutamente sì. Poi noi ricordo che abbiamo avuto sui fiumi il problema dei cormorani che mangiavano il pesce. Quindi ci sono delle attenzioni particolari che vanno rivolte. Perché in determinati periodi storici, in questo caso anche acuiti dal cambiamento climatico, si vengono a generare condizioni per cui una specie prolifera più di altre. Poi con la globalizzazione che ci ha consentito comunque di esportare in tutto il mondo, ha anche una controindicazione. Cioè che da tutto il mondo possono arrivare specie che non sono autotone. Dobbiamo avere gli strumenti e capire quali sono. Dobbiamo capire intanto se abbiamo monitorato bene quel che è accaduto fino ad oggi. Perché se nel 2019 se ne pescavano 35 kg e nel 2022 se ne è pescati 10.000 kg, lì forse qualche campanello d'allarme doveva suonare prima. Noi vogliamo mettere nelle condizioni chiunque, soprattutto i nostri operatori, di poter sapere che ci sono strumenti anche statali che avvertono e che soprattutto poi mettono in campo in maniera veloce e rapida gli strumenti per affrontare questi problemi. L'arrivo del ministro che poi mi ha detto che va anche oggi a Goro. Per cui insomma è un segnale di attenzione che penso che sia stato colto. Noi col senatore De Carlo ci sentiamo fra pochi minuti per parlare di altro che non sia granchio blu. Siamo di nuovo col senatore Luca De Carlo. Abbiamo parlato di granchio blu nella sua veste di presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Parliamo un attimo di politica, insomma. Passato non è netto ormai, siamo verso l'anno. Come giudica questo anno di Fratelli d'Italia? Il senatore De Carlo è anche coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Come giudica questo primo anno del governo Meloni? Insomma è un anno che ha zittito gli scettici soprattutto e che ha costretto la sinistra a rincorrere temi marginali perché sui grandi temi di fatto li avevamo saputi smentire. Ci hanno dato un'immagine di noi diversa da quella che noi eravamo. Lo sapevamo, l'abbiamo detto i primi mesi. Guardate che sta raccontando un film che non è questo. Dopodiché tutti gli indicatori europei e economici ci dicono che questa Italia reagisce meglio di altri rispetto a queste crisi e quindi giudichiamo positivo quest'anno. Un anno che non è stato facile. Ci sono stati tanti profili, sia sotto profilo economico che sotto profilo di immigrazione. Pensate a quanti oggi leggiamo il raddoppio degli sbarchi rispetto al nostro... Pensate cosa sarebbe successo se avesse amministrato la sinistra in questi anni. Ci saremmo ritrovato veramente con un nuovo business dell'accoglienza che avrebbe riempito le cronache dei giornali. Oggi invece c'è un governo che tenta, e grazie agli accordi internazionali, pensiamo alla Tunisia, pensiamo alla Libia, di arrestare il flusso perché ridiamo alle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo non solo la dignità, ed è quella che ci hanno sempre riconosciuto, ma anche la possibilità di sviluppare le loro economie. Altrimenti noi dovremmo arrenderci al fatto che dovremmo mettere una damigiana, cioè tutta l'Africa, all'interno di un bicchiere che è l'Italia e l'Europa. In tutto questo percorso non possiamo certo essere lasciati soli come è accaduto. Per troppi anni l'Italia è stata supina alle richieste di Francia e Germania e quindi non abbiamo mai avuto un orgoglio nazionale, che invece Francia e Germania hanno sempre dimostrato, perché loro sì sono sovranisti sul serio, non siamo sovranisti a parole, loro sono sovranisti nei fatti. Loro sono sovranisti nei fatti, noi oggi in Europa interlochiamo con loro e ci moriamo sullo stesso livello. Infatti c'è una grandissima credibilità internazionale, anche oltreo c'è una recuperata dall'Italia, che ci pone ad essere interlocutori di tutti, ma non in maniera subalterna, ma assolutamente in maniera paritaria. A proposito di profughi, tra i sindaci venici c'è stato un po' di malumore, questa ridistribuzione sul territorio. Io sono anche sindaco, la capisco il malumore, lo capisco e come, però anche ai miei colleghi sindaci dico che oggi il momento è difficile, che il governo sta lavorando forte sia sui rimpatri che sugli accordi internazionali, che c'è una percentuale di persone che oggi si sposta, i sindaci dà fastidio soprattutto il fatto che solo poi l'11% di quelli che arrivano non siano veramente profughi, gli altri siano persone che vogliono legittimamente anche migliorare le proprie condizioni economiche, ma non c'è possibilità. In Italia non possiamo accogliere tutti, non ce la faremo mai. Per cui i sindaci a certe volte si sono trovati anche con delle, diciamo così, d'imperio dalle prefetture, l'arrivo dei profughi e sulle loro spalle tutta la gestione. Io credo che si debbano trovare il giusto equilibrio tra una gestione che deve esserci soprattutto per chi oggi ha diritto, chi ha lo stato di profugo, ma anche l'immediata coscienza da parte dell'amministrazione che chi non ce l'ha viene rimpatriato e quindi viene alleggerito tutto questo. Ricordo a tutti che i sindaci, soprattutto del Veneto, si sono impegnati fortemente nell'accoglienza dei profughi che scappavano dalla guerra, cioè quella dell'Ucraina. Ed è per questo che a maggior ragione cercano di distinguere chi scappa per migliorare le proprie condizioni da chi realmente scappa dalla guerra. Sui profughi ucraini lei non ha mai sentito una protesta, mai, non si è lamentato nessuno. Anzi, si sono fatti tutti in quattro e io li ringrazio. Su queste persone che invece migrano spesso, spinte a farlo, purtroppo tante volte anche con un business, quello non solo dell'accoglienza, ma anche quello del trasporto, che è in mano ai più feroci criminali del Mediterraneo, credo che su questi abbiano ragione, per certi versi, ad essere particolarmente incavolati. Cambiamo discorso, rimanendo a Roma, arriva la finanziaria, quella che adesso si chiama legge di bilancio, ma è la famosa legge finanziaria. Sarà un periodo di lavoro bello intenso e anche non semplice. Quest'anno, tra l'altro, parte dal Senato, quindi sarà per noi anche un motivo di grandissimo lavoro natalizio, ma anche di grandissime possibilità di migliorare. Chiaro che, come in tutte le famiglie, vanno scelte le priorità. Vorremmo fare tanto, ma le condizioni non ce lo consentiranno e quindi dovremmo scegliere le priorità, come fa qualsiasi buon padre di famiglia in qualsiasi contesto. Mi fanno ridere quelli che già da due mesi invocano lo sciopero, senza sapere nemmeno cosa scriveremo nella finanziaria. C'è Landini che gira dicendo che vuole lo sciopero, mentre quando governava alla sinistra non l'ho mai visto, oggi governa alla destra, chiama uno sciopero ancora prima che si sappia cosa c'è scritto nella finanziaria. Direi che gli italiani hanno talmente tanto capito che, se pensiamo ad una cosa concreta come la questione sul salario minimo, sul quale mi piace il dibattito. Mi piace capire economicamente se siamo in grado di fissare un salario minimo oppure la contrattazione che è sempre stata la caratteristica peculiare di questa nazione e quindi anche dei sindacati. Sindacati oggi di fatto sbugiardano se stessi se non credono più alla contrattazione ma pensano al salario minimo, cosa che peraltro non si erano mai occupati nei dieci anni che ha governato il PD, però è un dibattito che mi piace e mi piace anche parecchio e quindi lo seguirò con assoluta attenzione. Due domande al volo. La benzina. La benzina cresce, ho letto anche ieri sul vostro giornale, però attenzione che io sono uno di quelli che crede che le accise vadano quantomeno diminuite, però credo anche che quelle accise oggi non finanzino più quello per cui sono state messe, quindi finanziano interventi soprattutto sulle fasce più deboli. Quindi attenzione a pensare di poter levare dalla benzina per poi trovarsi con problemi da altre parti. Io credo che noi lavoreremo per abbassare sia il cuneo fiscale e quando potremo anche le accise, senza però far venire meno le risorse e le fasce più deboli, che credo siano quelle assolutamente più colpite dalla crisi. Ultimissima domanda, torniamo al locale. Si apre un anno bello, interessante, divertente. Si va a votare a Rovigo in altri... Tantissimi comuni del Vento. ...da quattro comuni solo in Polesine. Oltre a tutto il resto del Vento si va a votare a Rovigo, Fratelli d'Italia, come si pone di fronte a queste elezioni che arriveranno, che sarà l'elezione del capoluogo. Il capoluogo dove il centro-destra ha perso le ultime elezioni, insomma, per cinque anni fa. Il centro-destra in tanti anni a Rovigo si è fatto del male da solo, insomma, perché tanti anni abbiamo visto amministrazioni purtroppo non portare a termine il proprio mandato. Io credo che Fratelli d'Italia, che rappresenta comunque il partito più votato, anche in Veneto, possa dire la sua. Guarda, io non ho particolari preclusioni nei confronti, oppure nel dire un candidato piuttosto che un altro. Io credo che il centro-destra vinca quando è unito. E se tutti facciamo un passo indietro, sapendo che l'importante è essere uniti per contrastare chi esce, cioè chi è uscente, chi è sempre favorito in una logica elettorale, ricordiamoci, chi ha ministro a cinque anni, normalmente è favorito. Quindi dobbiamo trovare la massima condivisione. Se poi il miglior candidato sarà di Fratelli d'Italia, bene. Se il miglior candidato sarà di un altro partito, altrettanto bene. Sapendo che Fratelli d'Italia, contrariamente agli altri anni, quest'anno giocherà un grande ruolo. Tra l'altro noi abbiamo una grandissima classe dirigente, insomma, il paterniano è il nostro provinciale. Abbiamo Ivano Gibin, che si occupa degli enti locali. Abbiamo un senatore Emidei, che può concentrarsi anche su questo. Abbiamo sul territorio tante persone e tanti nuovi che sono entrati, che fanno parte della nostra famiglia, non c'è uno su tutti, e Luca Benetti, che rappresentano comunque una maniera di far politica vicina alla gente, che credo possa essere utile nel momento in cui dovremmo dimostrare alla sinistra che siamo più bravi anche a amministrare localmente come stiamo facendo la nazione. Grazie il senatore Luca De Carlo. Ci sentiamo prossimamente. Certo, mio piacere. Grazie a tutti. Grazie a riederci.